Presentiamo alla Fiera di Vicenza il nostro semi-automatico da tiro. Come potete vedere si tratta di un fucile semi-automatico in calibro 2.23. Sul mercato di questa tipologia di armi ne sono presenti tantissime. Noi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso e qualcosa di speciale. Quindi noi non eravamo interessati a un'arma che potesse essere utilizzata per tiro dinamico o cose di questo genere. Noi vogliamo rimanere sul filone del tiro a lunga distanza in cui le nostre carabine sono presenti e sono molto ben conosciute. Quindi saranno armi esclusivamente da tiro. Quindi queste armi saranno dotate di canne pesanti e piuttosto lunghe. In questo caso sono canne da 20 pollici ma saranno disponibili anche in 22 e in 24 pollici. Come vedete si tratta di canne bull barrel. Non saranno presenti i filetti per compensatore in volata perché non è questo l'utilizzo che noi pensiamo per questo tipo di armi. Quindi saranno armi dedicate alle competizioni. Presentiamo due modelli. Un modello basico. Con canne in acciaio a carbonio. Tubo anteriore pieno. E tipico calcio AR15. Sarà presente anche una versione più ricercata con calcio regolabile in cui è presente anche un monopod posteriore. Un tubo traforato con piccatini lunga. Questo modello sarà fornito solamente con canna inox. La particolarità di queste armi è che saranno dotate di due canne multiradiali in calibro 223. Dopo aver testato queste canne in calibro 223 sulle carabine Bolt Action con buoni risultati abbiamo deciso di trasferire questa tecnologia anche sulle canne semiautomatiche. Quindi il passo di rigatura sarà di 8 pollici per entrambe in modo da poter stabilizzare quasi tutte le palle di questo calibro presenti sul mercato. Tendenzialmente le palle più adatte saranno quelle da 69 a 77 grani.